Tre denti in esclusiva per l'Italia. Per la decima edizione di Jets in Campo, che si terrà a Campo di Pietra dal 20 al 22 luglio, gli organizzatori hanno messo in piedi un cartellone con grandi nomi internazionali. Si comincia con il pianista cubano Gonzalo Rubalcaba, che si esibirà in piano solo. Poi lo spagnolo José Luis Gutírez e infine il batterista argentino Minimo Garey con il suo progetto I Tamburi del Sud. Tre grandi appuntamenti, veramente di caratura internazionale, una fama indiscussa a livello internazionale. Gli addetti ai lavori sono concordi su questo. Questa decima edizione non è meno alle altre, però nasce con un attimino di difficoltà perché essendo un'amministrazione appena eletta, quindi abbiamo avuto qualche difficoltà organizzativa perché i tempi erano stretti. Siamo in assoluta continuità, però organizzare un evento del genere richiederebbe molto più tempo. Siamo riusciti comunque, grazie anche alla collaborazione di chi ha sempre contribuito ad organizzare questa manifestazione nel tempo e quindi anche questa volta diciamo che siamo riusciti ad organizzarla nel migliore dei modi. Grazie alla Regione Molise comunque che ha avuto questa volta finalmente un'attenzione particolare per l'evento a Campodipietra, anche di carattere economico oltre che promozionale. Dicevo prima in conferenza, questa manifestazione non è soltanto un'occasione culturale. dovrebbe essere eletta e deve essere eletta come un'opportunità anche di carattere economico perché noi attraverso questa manifestazione che oramai ha raggiunto abbondantemente i confini oltre Regione essere un veicolo promozionale per i nostri prodotti, per le nostre tradizioni, per le nostre bellezze che abbiamo sul territorio e che meritano soltanto di essere conosciute. Ecco, avere più tempo per programmare questa manifestazione avendo la possibilità di una programmazione a più lungo termine gioverebbe sicuramente a tutti.